Se volete acquistare crediti passate da FIFA coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e iscritti più di tutti Bentornati su Giovec di Spò Io sono Giovi Spò e questo è il nono episodio della serie scontro tra i titani stagione numero 3 Nello scorso episodio avevo chiesto di scegliere tra LAMA e MONTENES Sono due argento, due esterni sinistri La vostra scelta è stata per il giocatore argento e non ve lo dico fino a quando non lo metto Tra MONTENES e LAMA, LAMA e MONTENES MONTENES e LAMA, LAMA e MONTENES LAMA 90 di velocità Secondo me è solo quella, è la cosa che spicca di più Comunque Ora andiamo a disputare la partita Questa è la squadra avversaria Bene, abbiamo una tedesca Abbiamo Winderfeller, Gros... Non so come si dice... Ouedes, Hummers, Boateng, vabbè Müller, Kroos Kroosil che dirà, Schürer e Miroslav Kroos È come unica punta Vediamo cosa sarà, saprà fare di Natale Mica Costa, per di Natale Di Natale, il tiro da lì, di Natale Vai, mamma mia Di Natale tira certe sidurate rasoterra potenti, potenti, potenti No, no, schippiamo il replay, ancora si incazza e quitta Oppure perdo io direttamente Vaffanculo E chi se lo aspettava un gol del genere? Chi se lo aspettava un gol del genere? Ma come... 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 Perché... perché non ha saltato? Perché se... ma... Tanti perché... senza risposta Bella questa cavolata di Winderfeller E la para pure E Diego Costa non segna Bravo Diego Costa Bravo, bravo Cioè... Mi sta baggando di brutto oggi, va? No, 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 no No, no, yeah Ancora no, yeah Ancora La prima parata è questa O la seconda Boh, non mi ricordo Questo corner è... Là, eccolo No, meno male No, no Diego Costa La riceve per Di Natale Di Natale L'aggancia E la tira E la tira su Andreva Il cross per la testa di Diego Costa Che mi dà il recupero La dà Di Natale Di Natale Vai, vai, vai Vai, vai Tira Tira questa bomba Tira questa bomba La bomba non l'hai sganciata Vai Fallo, fallo, fallo Fallo, fallo, fallo Fallo, fallo Tre volte Trecentomila volte fallo Allora Si può fare così Oh, no Troppo piano Troppo piano Porca di quella Puttana Me lo Ma dai Ed è Ma basta Con questi I barbo Ed è Bene Che Chi cazzo Più Vaffanculo Questo lo mette A settantesimo Va a segnare Uffa Mamma Assurdo Si perde così Con un gol A novantesimo Ma vaffanculo Sto gioco di merda Come cazzo si fa Come cazzo Si fa Il recupero Che dura un'eternità Il recupero Dura un'eternità E si E si continua a perdere Si continua a perdere E' bella roba Bella roba Secondo me Non serve a un cazzo Né aver giocatori baggati Né aver giocatori forti Se devi perdere Devi perdere E basta Non c'è niente da parte Comunque Le scelte Per Il Mamma mia Non capisco più un cazzo Va Aspettate Rimanete qui Wenderpelle 8,3 Ok E questo E' il gioco Ok Aspettate Faccio una ricerca E vi dico Allora Potrete scegliere Tra Boateng Oppure Ouedes Commentate Sono entrambi tedeschi Quindi commentate Commentate Con la vostra scelta Se il video vi è piaciuto In un momento Lasciate un bel pollice All'insù Iscrivetevi Al canale Se non siete già Iscritti Condividete Passate dalla pagina Facebook E dove Ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video Ciao E alla prossima